Sala stampa. Troviamo Ugo dopo l'annuncio dei pardi. Allora Ugo, il pardo d'oro va in Cina. Il pardo d'oro va in Cina. Un altro autore come Ho Sang, che ha vinto il pardo per la migliore regia, era chiaro che vinceva per la migliore regia. È uno degli autori cult che esistono in Europa e ha uno stile del tutto suo personale. Per cui era giusto anche quel premio alla regia. Ed era giusto anche il premio Isabelle Huppert, perché Isabelle Huppert chiaramente è l'attrice migliore. Ma quello che forse non si doveva fare era quello di mettere delle Ferrari in gara e poi tutte le altre macchine un po' outsider e alla fine premiare le Ferrari. Era chiaro che vincerano. Sì.